Carolina Tosetti, tu sei alla guida di Agora Palace Hotel di Biella. Raccontaci, quanto è impegnativo il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro è impegnativo soprattutto a livello di tempo, quindi è un lavoro in cui devi essere presente. Io sono la direttrice dell'hotel, è un hotel di 84 camere con un centro congressi, un ristorante e un'attività di banchettistica, eventi eccetera. Quindi è chiaro che la presenza fisica, il contatto con gli ospiti, il coordinamento dello staff è fondamentale, è la parte principale del mio lavoro. Quindi l'impegno è appunto, come ti dicevo, un impegno di tempo, di energie, sia fisiche che mentali, però è un lavoro che mi dà tantissima soddisfazione e quindi lo faccio con molto piacere.